Ben ritrovati, prima di tutto grazie, grazie, grazie perché il canale sta crescendo e ne sono molto felice, sono soprattutto felice per il fatto di essere apprezzato, per il fatto che siete tutti quanti estremamente garbati, educati, poi magari non mi sono accorto di insulti clamorosi, non tanto nei miei riguardi ma anche nei riguardi delle persone che mi sono vicine, però per il momento veramente posso solo dire grazie. Avevo detto che l'obiettivo era 1-7-8-0, invece siamo andati addirittura 1-7-9-0, quindi oltre le mie più rose previsioni, quindi ringrazio tutti, vi ricordo comunque sempre di iscrivervi, per chi non lo avesse ancora fatto, a voi non costa nulla per me comunque un gesto significativo e ovviamente se poi il video è stato di vostro gradimento di lasciare il solito like che non guasta mai. Detto questo, bando alle ciance, giornata direi importantissima questa per il calcio mercato, direi una giornata che sorride particolarmente alla Juve e al Milan e anche al Napoli. Ma procediamo con ordine, partiamo dalla Juventus, l'offerta della Roma per Sule pare essere ormai indirizzata verso le cifre giuste, si parla di 26 milioni più 2 di bonus facilmente raggiungibili, più altri 2 più difficilmente raggiungibili, anche un 10% sull'eventuale rivendita di Sule da parte del club dei Fritkin, quindi onestamente non siamo mai stati così vicini, o meglio, Sule non è mai stato così vicino alla Roma. Ma c'è un'altra importante notizia che riguarda la Juve, che secondo me merita di essere sottolineata, e riguarda Federico Chiesa, tutti coloro che legittimamente temevano che Federico Chiesa potesse avere un accordo con l'Inter, e magari con l'Inter ha veramente parlato, ha veramente trovato un accordo verbale, beh, insomma, vengono, tra virgolette, non smentiti, ma vengono ridimensionati dalla notizia di oggi che io già ve l'avevo detto, vi ricorderete in qualche video fa, non è per vantarmene, ma cerco sempre di informarmi, di non copiare le notizie degli altri, ma cercare di informarmi, di mettere insieme qualche idea e poi di proporvela. Federico Chiesa non è mai stato così vicino alla Premier League e per inciso al Tottenham, dove potrebbe prendere i soldi che ha sempre voluto, che ha sempre richiesto la Juventus, il Juventus che sarebbe ovviamente felicissima di poter cedere Federico in Inghilterra, scongiurando così la possibilità di poterlo consegnare nelle mani di un antagonista importante come quella nerazzurra milanese, e quindi di conseguenza anche questa è una grande notizia da parte della Juve. Se poi concludiamo con l'ormai prossima cessione di Uisen in Premier League, direi che la giornata, la pagnotta, la Juve, il pane e bigio di rosso malpelo, la Juve se l'è guadagnato in abbondanza, quindi giornata ultra positiva. Lo ricordiamo, Chiesa molto vicino alla Premier, Uisen in Premier League e praticamente accordo quasi trovato tra la Roma e la Juventus per la cessione di Sule. Con questi soldi la Juve chiuderà subito per Todibov, vi ho già spiegato ieri quindi non voglio essere ripetitivo, molto importante anche nel pensiero tattico di Thiago Motta, per dare a Bremer un ruolo sempre di centrale, ma un pochettino più un centrale che va a impostare anche l'azione, e poi ovviamente ci sarà l'assalto a Cup Miners, l'Atalanta non vuole mollare, per Cassi rimane determinato, ma io sono più che convinto che questo muro, questo muro altissimo, questo muro invalicabile, si ergerà fino al 14 agosto, per inciso la data della finale di Supercoppa tra Atalanta e Real Madrid, dove giustamente l'Atalanta vuole giocarsi le sue chance per entrare eventualmente nella storia, lui è già nella storia, però è chiaro che battere in Supercoppa Real Madrid, la Supercoppa non è la Champions League, però battere il Real di Carlo Ancelotti, che sembra imbattibile nelle finali, sarebbe qualcosa di eccezionale per il club neroazzurro bergamasco. Abbiamo detto giornata molto positiva anche per il Milan, Eh sì, perché vi ricorderete che avevamo detto che Pavlovic, il centrale che il Milan sta inseguendo, era stato corteggiato anche dall'Atletico Madrid, l'Atletico Madrid che voleva rompere un pochino le uova nel paniere, anche per quanto riguarda l'attaccante Fulgrug, l'attaccante che il Milan spera di utilizzare come altra proposta tattica rispetto a Morata, Beh, Pavlovic si è promesso sposo, ha detto che il matrimonio sa da fare, contrariamente ai bravi di Don Rodrigo, al Milan, e quindi di conseguenza il club rosso-nero è decisamente più vicino a un perno importantissimo, direi fondamentale, per quanto riguarda il discorso della difesa. Un po' più complicato il discorso di Fofanà, perché rimane sempre una forbice molto ampia, tra quanto chiede il Monaco, che ha sparato addirittura 25 milioni, e l'offerta del Milan, che al momento rimane a 16. Ma vi ho parlato anche di una giornata importante per il Napoli, non parliamo ancora della cessione di Ozymen, non parliamo ancora dell'acquisto di Lukaku, non parliamo ancora di acquisti a da nomi altisonanti, ma parliamo di un giocatore che a me piace moltissimo e che avrei voluto vedere al Juventus. Parliamo di Brescianini, giocatore talento del Frosinone, 10% appartiene al Milan se non erro del cartellino, su questo non sono sicurissimo, ma credo così abbraccio a occhio di ricordarmi ancora bene, e quindi un altro talento per Conte. Io penso, quando si dice Conte soltanto per l'instant team, non credo che sia una verità assoluta questa. Conte sa lavorare bene anche con determinati giocatori, e l'idea che nelle mani della formazione partenopea ci siano due grandi talenti come Foloruscio e appunto Brescianini a quanto pare, mi preoccupa non poco. Io tra l'altro facendo un giochino ho dato come favorito il Napoli. È un po' il mio pensiero, senza nascondermi, naturalmente mi auguro, sapete già che cosa mi auguro, però devo anche ragionare col cervello, devo anche pensare che tante volte non vince il più forte, ma già vince chi sa gestirsi meglio, e vince soprattutto chi riesce anche a avere meno partite, quindi a gestire meglio le proprie forze. I campionati non li vinci negli scontri diretti, ma li vinci spesso battendo le squadre dal quinto posto in giù. È chiaro che non è che devi perdere con le prime quattro, però insomma avete capito perfettamente il discorso, ecco perché ogni tanto mi viene in mente, non di fare questo pronostico, però che effettivamente ancora una volta Antonio Conte sia una vecchia volpe e abbia scelto di andare nel posto giusto, al momento giusto, nella situazione giusta, e avendo una gestione vecchia, in un anno calcistico estremamente nuovo e denso di impegni. Concludiamo con l'Inter, proprio poco, ovviamente ma non perché voglia minimamente essere di parte, perché le novità di questa giornata, quindi non voglio ripetere le cose già dette nei giorni scorsi, sono Depay e Berardi che si sarebbero offerti al club nero azzurro, club nero azzurro che peraltro l'abbiamo detto mille volte, continuo a ripeterlo, non mi pare abbia particolari problemi nel gestire una rosa profonda, ampia, due squadre, probabilmente mettendo la squadra dell'Inter 2 a giocare il campionato italiano, lo Scudetto non lo vince, però probabilmente potrebbe essere una squadra assai accreditata per entrare certamente in Europa e forse addirittura in Champions League. Grazie.